Emozioni in crescita come il rombo del motore di un biplano in fase di decollo per la terza edizione della festa del Campovolo Cogliate. Con la benedizione del primo pilota acrobatico d'Italia, quel Sergio Dallan protagonista in mattinata di mirabolanti evoluzioni aeree sorvolando la pista, la manifestazione ospiterà ogni giorno diversi appuntamenti ed eventi, tra cui il lancio dei paracadutisti sabato alle 14.30 e l'esibizione acrobatica della pattuglia di P3 Flyers domenica pomeriggio. Entrambe spettacoli da non perdere. Siamo contenti di aver organizzato questa terza edizione e abbiamo voluto introdurre con il fatto di essere divenuti da poco a biosuperficie anche il desiderio di raccogliere qua in Brianza gli ultraleggeristi un po' di tutta Italia. È forse un po' un'utopia visto il fatto climatico che in questi giorni non è dei migliori, ma ci crediamo fermamente e quindi l'idea era, oltre alla solita festa, il raduno degli ultraleggeri. All'ave e superficie di Via Luini è inoltre possibile prendere parte a voli turistici su elicotteri ed ultraleggeri. È possibile prendere l'attestato di volo, è presente una scuola di volo e la stessa scuola di volo è la prima in Lombardia per persone diversamente abili, delle cinque in tutta Italia, cioè Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia.